non posso nemmeno urlare cari amici del cilento lo so che siamo a giugno lo so che fa molto caldo lo so che tutti quanti ormai andate a mare è proprio per questo motivo oggi non voglio farvi vedere una località di mare ma un piccolo borgo perché come vi ho sempre detto il cilento non è soltanto la costa ma anche dei posti bellissimi nell'entroterra ed è per questo motivo che oggi vi farò vedere un borgo così a caso prignano cilento che spettacolo andiamola a vedere eccomi qua sono dentro si parte con una salitina però piano piano arriviamo allora alle mie spalle come potete vedere quella è la chiesa madre di prignano cilento la chiesa dedicata a san nicola di bari andiamo a vederla più da vicino guardate com'è bella purtroppo l'ho trovata chiusa da qui c'è anche una bella una bella vista e questa è una chiesa del risale al tredicesimo secolo eccola qua è una chiesa molto storica però credo che nei nei secoli abbia ricevuto comunque dei lavori di di restauro adesso proseguiamo questo tour a prignano cilento ed entriamo nel borghetto che poi è quello che io amo no del cilento camminare tra i vicoli del borghi cilentani è una delle cose veramente più belle vi faccio vedere un'altra cosa che sto guardando in questo momento che è questa santo miele è un'azienda storica cari amici è famosissima l'azienda dei fichi di santo miele veramente storica caso mai poi vi farò un altro video dedicato solo a questo perché i fichi di prignano di santo miele sono uno spettacolo e adesso si prosegue entriamo nel borgo guardate che bello mamma mia guardate qui bellissimo che scorcio che silenzio non si sente nulla anche perché questo è un comune che supera di pochissimo i mille abitanti per cui figuriamoci non posso nemmeno urlare guardate come sono belle le case tutte in pietra devo dire che è un borgo molto molto pulito ordinato non me l'aspettavo così qui si inizia a intravedere anche un po' di panorama ragazzi sono bellissime queste case andiamo a vedere dentro l'arco io non parlo andiamo andiamo bellissimo vi faccio una domanda voi vivreste in questo borghetto un silenzio pazzesco un panorama bellissimo una pace unica cioè non posso urlare mi sentono tutti comunque cari amici del cilento io vi aspetto guardate lì si vede anche il castello di rocca cilento il castello più antico dell'intera regione campania e ovviamente ce l'abbiamo qui nel cilento e a proposito di cilento venite perché ci sono io vi offro il caffè ma oltre a questo venite perché è bellissimo ve lo dico io boom boom Grazie a tutti